Questa fine è un'opera di Korakrit Arurandolchai e a me piace perché usa diversi materiali tipo il jeans, legno, sassi, terra, cubi, varie materie e questo lo rende particolare. A me piace soprattutto perché usa materie che c'entrano con quello che c'è nel suo paese. Questo è il quadro di Ernst Nepo e mi piace per il colore e per la cornice. Grazie a tutti.